Passare alla lavastoviglie è il modo più semplice ed efficace per un pulito profondo. Grazie al nuovo Finish Quantum Igiene, studiato con gli esperti di Napisan, e alla tecnologia di dosaggio automatico di Beko, puoi dire addio al lavaggio a mano e avere ogni giorno stoviglie igienicamente pulite e brillanti. Finish e Beko. La svolta per un pulito igienizzato.